Salve a tutti, siamo gli alunni della seconda F dell'Istituto Arnolfo di Cambio II Colleghi Valdelsa. In questa attività abbiamo parlato della violenza interpersonale e del bullismo, utilizzando la metodologia didattica del role-playing. Questi temi sono molto attuali per noi giovani e ci hanno permesso di riflettere sui veri valori dell'amicizia e dello stare insieme. Grazie. Posso giocare con voi? Non ti vuole nessuno! Ma ti sei visto? Nessuno ti vuole! Nessuno ti vuole, vergogna! Nessuno ti vuole! Vai via! Fuori! Non è nessuno! Svegli! 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 Iscriviti! Oh! Ovi! Dai fai un video Diventeranno famosi Siete pronti per un like? Sorridete Lasciateci in pace Andate via Che è ridicolo Non sapete ballare No, no, no È impossibile Sono pazzi Sì Mi sono Mi sono Guarda Vi sembra divertente? Cancellatemi sto video Ognuno è libero di fare ciò che vuole In effetti hai ragione I ragazzi sono lì Dai andiamo a giocare con loro Dai ragazzi andiamo a giocare tutti insieme Questa è stata un'esperienza fantastica che ci ha fatto riflettere sulle nostre azioni e sul nostro comportamento E prima di agire dobbiamo sempre pensare a quello che si fa Questa attività ha messo l'alunno al centro del processo di apprendimento Tutti gli alunni sono stati protagonisti attivi Attraverso questi giochi di ruolo hanno avuto la possibilità di generare un apprendimento di tipo significativo Sia nella fase della messa in scena Sia nella discussione e nel dialogo successivo che è avvenuto Questo laboratorio ha inoltre influenzato positivamente il gruppo classe È migliorata la collaborazione, l'empatia, il sapersi immedesimare gli uni negli altri Tutti gli alunni hanno registrato un miglioramento nel proprio percorso formativo E questo ci fa capire che la strada è quella giusta da percorrere per il successo dei nostri ragazzi Ad mai ora sempre!